Buongiorno e benvenuti a una nuova lezione di storia dell'arte. Oggi riprenderemo il discorso sulla scultura greca già iniziato nel video precedente, parlando di Fidia, che assieme a Mirone e Poligleto definisce il linguaggio greco classico. L'aspetto più interessante di questo artista è che egli fu incaricato da Pericle di dare una sistemazione all'acropoli di Atene, che da allora assunse la magnificenza che ancora oggi possiamo ammirare. La scelta di Pericle era volta ad esaltare la potenza di Atene e si iscrive nella volontà di promuovere nella città un rinnovamento politico, militare, economico e culturale. Ma prima di parlare dell'architettura del Partenone, in cui l'impronta di Fidia è particolarmente evidente, analizziamo alcune opere scultoree. In questa foto è rappresentato Apollo Parnopio, letteralmente che allontana le cavallette, che faceva parte delle sculture poste in prossimità del Partenone. Qui Apollo, dio del sole e delle arti dell'intelletto, viene rappresentato in un altro dei suoi attributi, ovvero come protettore dalle pestilenze e dai flagelli in genere. L'opera che vediamo è una copia romana da un originale in bronzo e doveva avere nella mano destra un ramoscello dall'oro o una cavalletta e nella sinistra un arco. Fidia lo rappresenta in posa stante, rinunciando alla marcata posa chiastica di Policleto. I piedi poggiano entrambi al suolo e solo impercettibilmente la gamba sinistra risulta portante rispetto alla destra. Anche le braccia rinunciano alla netta alternanza del doriforo. Questa scelta comporta un leggero innalzamento del bacino in corrispondenza della gamba sinistra che non necessita però di un bilanciamento opposto della spalla. Le gambe definiscono una sorta di fuso rivolto verso il basso e per alleggerire questa posa che volutamente rimanda all'arcaico, fidi a far ruotare la testa verso sinistra in basso. La staticità della posa è da collegarsi alla filosofia in quanto la divinità per il mondo greco è immutabile e perfetta e il movimento esprime invece implicitamente un cambiamento che male si adatta alla rappresentazione della divinità. Ecco perché la statua utilizza un linguaggio statico che rimanda all'arcaismo. In questa immagine possiamo notare una ricostruzione della statua. Il bronzo dorato era evidentemente funzionale ad esprimere l'idea del sole legata alla figura del dio. L'opera successiva è la mazzone ferita che rimanda all'omonima opera di Poligleto. Qui però Fidia dimostra di volersi staccare nettamente dal suo concorrente evidenziando una maggiore libertà espressiva. Notiamo infatti che se nella scultura precedente l'artista si era avvalso di un vocabolario più sobrio per esprimere al meglio l'impassibilità e la perfezione del dio, qui usa un movimento violento del braccio destro della ragazza che mette meglio in evidenza il dolore provocato dalla ferita. Il braccio destro estremamente mobile non corrisponde come in Poligleto alla gamba sinistra che dovrebbe essere portante ma è rilassata. La gamba portante invece è la destra e ciò produce un violento movimento ascensionale che poi ritorna altrettanto violentemente verso il basso seguendo il bastone o la lancia fino al braccio sinistro. Lo sguardo dell'osservatore è circolare e la composizione incornicia ed esalta il viso della guerriera che però rimane impassibile in linea con il canone classico. Rispetto all'opera di Poligleto, in Fidia anche il panneggio delle vesti esprime movimento. Le pieghe sono mobili e il vestito leggero e visivamente si creano triangoli che salgono verso l'alto seguendo il movimento del braccio destro ma torneremo a parlare dei panneggi alla fine della lezione. Arriviamo quindi al partenone che è l'edificio più importante dell'acropoli di Atene per la cui realizzazione Fidia si avvalse della collaborazione di due architetti Ictino e Calligrate. Si tratta di un tempio periptero octastilo dorico. Come accade per molti edifici dalla preistoria fino ad arrivare le chiese moderne la luce viene utilizzata nella sua valenza simbolica. Infatti rispetto all'entrata dell'acropoli Ipropilei il tempio è rivolto verso est in modo tale che chi guarda l'edificio deve volgersi verso il sorgere del sole. Anche l'entrata del tempio è rivolta a oriente. Il partenone è dedicato ad Atena Partenos cioè Vergine. Il termine partenone è anche legato a una zona retrostante al Naos chiamata appunto Partenon ovvero Stanza delle Vergini. Qui delle fanciulle tessevano il peplo che veniva offerto alla dea durante le feste panatenee. Come si vede dallo schema in basso il partenone era preesistente all'intervento di Fidia. Il tempio originario era più piccolo periptero e sastilo nella figura in arancione. Come si vede dalla ricostruzione all'interno il tempio presentava due file di colonne sovrapposte e un soffitto a cassettoni. Al centro era la statua colossale della dea detta Criso Elefantina realizzata cioè in oro e avorio. L'opera purtroppo non c'è pervenuta come quella colossale di Giove alta 12 metri realizzata con gli stessi materiali sempre da Fidia per il tempio di Zeus a Olimpia. Come si vede in alto la facciata come anche la pianta del tempio è realizzata secondo il principio della sezione aurea detta anche divina proporzione. Si tratta di una suddivisione di un segmento C in due parti A e B che seguono la seguente proporzione. C sta ad A come A sta a B ovvero l'intero segmento sta alla parte maggiore A come la parte maggiore A sta alla parte minore B. Da questo segmento si può costruire un rettangolo. Geometricamente il rettangolo aureo parte da un quadrato ABCD. Se prendiamo il punto medio M del lato del quadrato e apriamo il compasso con apertura MB l'arco condotto da B individuerà il lato del rettangolo. Ora questo rettangolo rappresenta il modulo su cui è costruito il partenone come si nota dallo schema. La sezione aurea chiamata anche costante di Fidia è stata utilizzata da sempre nell'arte perché i greci si accorsero che questa proporzione esiste in natura ad esempio in alcune piante o animali e nell'uomo. Per questo motivo tale proporzione è detta divina ed è quindi più adatta a definire l'idea di perfezione tanto ricercata dal mondo greco. Qui vediamo alcuni esempi di sezione aurea riscontrabili in natura. Nel partenone è presente un'altra particolarità. Se all'esterno il freggio è dorico con la tipica alternanza di triglifi e metope nella parte interna è ionico cioè continuo. Analizziamo ora alcuni dettagli decorativi. In questa foto vediamo una scena di lotta rappresentata in una metopa. Si tratta di un tema molto utilizzato dal mondo classico che avrà una lunga fortuna anche nelle epoche moderne ovvero il tema della battaglia tra uomini e centauri. La scena simboleggia la continua lotta fra la parte intellettiva e spirituale dell'uomo con la sua parte più irrazionale. Nella scena Fidia crea una circolarità nella composizione lasciando al centro uno spazio vuoto per aumentare il dinamismo. La gamba sinistra dell'uomo definisce proprio il punto medio del lato del quadrato tanto che la metopa con il relativo triglifo crea proprio il rettangolo aureo. Lo stesso soggetto è riproposto nella scena seguente con la medesima ritmo più dinamico e incalzante. E per finire vediamo una ricostruzione delle sculture del timpano che sono disposte a seguire la forma triangolare dell'architettura. Anche qui Fidia si dimostra geniale perché risolve il problema della decorazione del frontone di cui parleremo in una prossima lezione. Il particolare originale qui riprodotto ci riporta al dinamismo già evidenziato nella scultura dell'amazone ferita. Come si vede il movimento è enfatizzato dalle pieghe che assumono una sorta di effetto bagnato aderendo alle figure e creando intensi giochi di luce e continue linee di tensione. Questo sguardo dinamico e chiaroscurale non ha precedenti nella storia della statuaria greca. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima lezione.